Bentornati a questa puntata di Chiedi la Paolo. Oggi leggo il messaggio di Davide. Ciao Paolo, ho provato a fare una pizza in pala che ha un'idratazione alta con una farina forte ma mi è difficile da gestire. Ho usato una farina e acqua a 20 temperature da frigo ma non mi è riuscita. Beh Davide, la pizza in pala è un prodotto molto particolare. Innanzitutto devi avere un'ottima macchina che ti dà la possibilità di assorbire bene la farina e quindi fare un impasto ad alta idratazione. Altra cosa importante è che devi cercare di inserire l'acqua nell'impasto poco per volta. Quindi non fare acqua e farina tutt'assieme ma una volta messa la farina mettici già un 50% o un 60% di acqua. Poi quello che ne rimane dell'acqua devi andarla a mettere piano piano, si dice a filo normalmente. Fammi sapere se il consiglio è stato quello giusto e continuate a scrivermi a pizzachiocciola paolo.it. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!